pizza di pan carré bianca tolgo i bordi al pan carré, ungo la pirofila sul fondo e sui lati, metto le fettine di pane, aggiungo la besciamella, il parmigiano, il prosciutto cotto, la scamorza affumicata, di nuovo le fettine di pan carré, ancora besciamella, parmigiano, pancetta, scamorza, ultimo strato di pan carré, besciamella, pancetta o prosciutto, pomodorini, scamorza a cubetti e metto a 200 gradi per 25 minuti in forno statico. ed eccola qui, buon appetito!